Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo video che in realtà sono in live ma non ve lo dico, ve lo spiegherò più avanti video facendo Ragazzi sono in un gioco nuovo sul mio canale, è Lego Movie, è della saga dei Lego e credo di farne tanti di Lego Perché poi per chi mi conosce sa che non sono appassionato, sapete la passione, i Lego, no, io sono realmente accanito ai Lego E non ho mai giocato a un gioco di Lego prima appunto perché ogni qualvolta io vedo un mattoncino mi viene voglia di andare al cartolaio a comprarmi una scatola Ragazzi è così, più forti di me sono realmente accanito, da quando sono nato mia madre mi ha partorito a mattoncini Per cui immaginate il motivo per cui io abbia aperto un canale stile Minecraft perché io amo Minecraft Perché appunto adoro i Lego, adoro i mattoncini, adoro la scritta Lego, i colori, i giochi Vedete questo scemo che è il personaggio? Io avevo da piccolo una collezione di questi mini personaggini E dovrei avere da qualche parte ancora e ogni tanto, ancora oggi, nonostante io abbia 30 anni Compro ancora le scatole dei Lego, la mia collezione preferita è quella dei Lego City Ho veramente un bel po' di cose, se volete, se mi iscrivete sì nei commenti sotto il video Un giorno vi mostrerò la mia, tra le regolette, collezione o addirittura costruirò, comprerò qualche scatola e la costruirò in qualche video Farò il tutorial su come costruire Lego Ragazzi, che ve ne pare di questa serie? Commentate, iscrivetevi, pollice in su E diciamo che vi salto alcuni pezzi tramite video perché sono copyright Se scemo si pettina mentre io parlo, se sei bene, ciao gore E che dirvi, seguite il video e ditemi la vostra Vi taglierò molte scene di video, compreso la intro perché è tutto video E vi farò vedere qualche gameplay qua e là Un bacione e un abbraccio, a dopo Ed eccoci, questo è l'inizio di Lego Movie Questa è veramente una intro, stile tutorial Dobbiamo cliccare questi quattro babbei Ok, ok, ok Ragazzi, allora, il gioco si basa sul raccogliere tutti questi mattoncini Non è stile tutorial qua, non so se tagliarvelo o meno Quanti cavolo sono? Quanti cavolo sono? Premiare saltare Dobbiamo raccogliere tutti questi mattoncini dorati e argentati E poi ci saranno quelli blu, eccoli qua Che danno una cifra di Ambaradam Così qua serviranno più avanti per potenziare e acquistare altri personaggi È tutto distruggibile ragazzi È tutto distruggibile perché stiamo parlando di Lego Ok, prendiamo quelli blu Poi, logicamente, possiamo Ma ti stai zitto? Ragazzi, ve lo spiego dopo le cose Raccogliamo un po' di roba Non è così il gioco, tranquilli Ora, guardate, sto ricostruendo Ragazzi, la cosa figa di questo gioco è il distruggere e ricostruire A modo di loro Veramente, sono i geni Ora, vedete? Sono i personaggi femminili Possono raggiungere aree elevate Per cui, prendiamo triangolo Possiamo scegliere uno dei tre personaggi La donna, eccola qua E lei salta molto più in alto, guardate Oh, 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 oh In giro la cabeza Doviamo battere pippe i calzerunghi Ok, quindi Ah, dall'altra parte, perfetto Abbassa il lume del gioco Ah, ok Vi ricordo che sono anche in live su Twitch Ho trovato tutti i link in descrizione Oh, picchiato Oh, picchiato What are you doing? Don't aim it there Why are you sabotaging me? We can build another rocket Costruiamo anche questo Another rocket, Petruvius? Are you gonna miss me with that one as well? Ok Saltiamo da sopra e ci siamo arrivati Dai Spengite E anche il secondo missile L'hai partito L'hai partito You missed again I didn't even flinch that time Leave this to me Allora Io intanto raccolgo mattoncini Che è sta roba? Ah, ok Guardate, guardate, guardate Uno, due e tre Ora lei smonta tutto Guardate Si accumula di pezzi di Lego E costruisce un qualcos'altro Questo è tutto il gioco Si basa su questo Ragazzi È una figata epica Guardate che cazzo costruisce Ed eccoci qua ragazzi Nel vero gioco Nella città principale Questa è la città Altro che sim Cioè, scusatemi Altro che GTA Veramente Watchdog GTA Ma stiamo scherziamo Stiamo Guardate qua ragazzi Guardate che città È un gioco open source Ok Io, per esempio Prendo la macchinina E me ne vado in giro Spacchiamo tutto Perché più cosa spacchiamo Più monete ci danno Logicamente Beh, stiamo parlando di Lego ragazzi Se non Se non potevamo distruggere Nel gioco di Lego Dove cavolo distruggevamo? Scusatemi Ora andiamo in giro A fare un po' di macelli Logicamente O andiamo subito A fare la stor- La storia Guardate le monete Come salgono Voglio cambiare macchina però Voglio cambiare macchina Oh oh Da macchina a macchina Con un semplice salto Signore Adesso entriamo un attimo nel parco Perché Andiamo a fare la storia No, no Voglio quello Voglio quello Mi fai entrare? Mi fai entrare? No, l'auto leggerati Oh my god Aspetta, ma io ho visto anche il trattore Ho visto il trattore o sbaglio? Intanto vedete questi mattoncini verdi Non sono da raccogliere Ma sono da seguire Per poter fare la storia Infatti adesso ci andiamo Volevo un attimo guidare il trattorino Ok, andiamo Hello Poi ragazzi Lui sta riparando E dovrebbe aprirsi il cancello Voila Ragazzi Intanto Intanto taglierò Non preoccupatevi Ma taglio solamente i video Come ho detto prima Scene di video Che non posso mettere su YouTube Per copyright Ma nel frammento tempo Sono in live su Twitch E quelli in live Mi stanno guardando Tutto Tutto anche i video E quello che non c'è nel video su YouTube Per cui sono privilegiato Privile Pri Sono Pringles Ok Ok Andiamo Ora c'è un caricamento Ho paura per il video Ragazzi io quando vedo questi mattoncini Li voglio comprare per forza Io ora voglio quel camion Voglio quella casa Anche se è mezzo di Scusate Altro taglio per un video improvvisato E siamo qua Siamo alla prima missione Credo Qua ci sono dei soggetti Che stanno lavorando E stanno facendo Trovo le istruzioni Per costruire il prototipo Il prototipo Premi X per Fare a pezzi Oggetto Lego Ah ok Quello già lo sapevamo Che stiamo distruggendo tutto Ragazzi Dobbiamo distruggere più cose possibili Per portare a casa Più oggettoni possibili Perché ci serviranno appunto Per potenziarci O per acquistare altri personaggi Perché vi faccio vedere Se io tengo Cliccata la X Ok Non posso farlo adesso Lo faccio vedere più avanti Intanto ho cambiato Abbiamo la donna La donna è cattiva Quando picchia Tira le testate Guardate Adesso prende A testate le cose Diciamo che poi raccolgo Un po' di monete Magari a telecamere spente Che ne dicete O in live Logicamente Andiamo subito Andiamo subito a raccogliere Le cose Delle istruzioni Ragazzi Io amo questo gioco Cioè io amo il Lego Cioè io Io Vabbè Io mi sposerò il Lego Voglio un'altra moglie In Lego O trasformo Mia moglie in Lego Che faccio Oh cazzo Sto vagando tutto Quanti ne abbiamo? 8 mira Diamante Ah no Bene Ok Ragazzi In molti casi Potrà sembrare Molto moscio il gioco Però Credo che Per chi sia appassionato Di Lego Non c'è mosceria Non esiste mosceria Nei Lego Proprio Non Non È meglio che sto zitto Perché se no poi Mi tocca picchiare questo qua Che sta bevendo Oh 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 C'è qualcosa da aggiustare Vai 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 Aggiustiamo Devi raccogliere Solamente uno Di istruzioni Nice Eh Zio svegliati Devi lavorare Qua c'è un lucchetto Ci torneremo magari più avanti E Ah ok Ok Raccolto Yuhuu Yuhuu E mo Dobbiamo portarlo lì Nice Semplice Veloce Come la farfalla Excellent 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 Oh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Che devo fare Vuole quest'albero Tal'albero Hai Izzy Dei genio Hai Izzy Dei genio Cos'è Ah era il prototipo Quello che stavano costruendo Intanto Video Mini video Questo magari lo lascio Se non c'è musica lo lascio Dai Hanno chiamato i rinforzi Per spostare la casa Anch'io sono in fase di trasloca A casa mia Trasloca Anch'io voglio fare il trasloca così Pure io lo voglio fare così Pure io lo voglio fare così il trasloco Però non vale Hey 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 Che devo fare? Che devo fare? Distruggere tutto come al solito Ah no ho capito Guardate C'è un trapano Un trapano lì dentro Un martello pneumatico Cos'è? Ho equipaggiato il martello pneumatico Che devo fare? Trova un modo per demolire la strada La casa E il giardino Per il capo squadra Per il capo bastone Eh hey Questo è un gioco per il capo bastone Ragazzi sto cliffando tutto io Voi scherzate Ti ho riprimuto X per perforare Oh guarda La percentuale in alto Sto demolendo tutto Oh my god È giusto? Ma è giusto? Oh oh Ma è infinito Questo trapano? Ma che cazzo Sta staccando tutto 86% Completato Non raccoglio Che può squadra guys? Oh il bel lavoro Ora bisogna combattere Difficile Quindi Perché non cerchi distruzione Per costruire una sfera demolitrice? Vi a cercare altre istruzioni Azzo Ora ce ne vogliono due Di istruzioni Ok Tranquilli Tranquilli Raccogliamo tutto ciò E andiamo a raccogliere Oh hey Sì credo di sì Dovrebbe essere da qualche parte Ragazzi non so se i volumi Sono troppo alti Ditemi nei commenti Per favore Guardate le istruzioni Come il gioco reale Oh my god Drunk Trek Che devo fare Devo spostare sti cosi Yes Yes Io spacco tutto Madonna quanti ne avevo Da piccoli Di questi cosi Madonna Che ricordi No io domani Vado a comprare il lego Basta domani Vado a comprare una scatola di lego Faccio il video Mentre la monto Ok Va bene Mi va bene Quando c'è questo simbolo Devo distruggere Ormai l'abbiamo imparato Ragazzi Ormai lo abbiamo Imparato Voilà Voilà Raccogliamo il tutto ciò Ho capito E non andarlo sopra Calmati ne Che figata Che figata E mo Oh 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 L'esigenza Per la sfera Demona Della Ultima Andata Ora Dobbiamo andare a raccogliere Appunto le cose Una è qua Voilà Dammi Grazie Mi pare Mi pare che questa Sono la metà Della restrizione Di aver lasciato il resto Penso che qualcuno Lo su L'abbia preso Ok Dobbiamo andare su Da quanto Da quanto pare Dobbiamo andare su No che figa Ciao camion Ciao Ok Stava dormendo Ciao core Ciao camion Ciao Che figata Lo voglio anch'io Quel camion Ok Il camion Se n'è andato Il camion Se n'è andato E non ritorna più Il tre Il tre Che devo fare Premittilo Per utilizzare Che cazzo No Guarda Devo cambiare personaggio No Torna su Guardate Devo cambiare personaggio Eh L'ho già cambiato No Che è la figata Perché c'è qualcosa Al contrario Guarda Che si gira Ora parte Ora parte Guarda Stai a guardare Che è partito Stai a guardare Che è partito Andiamo zio Io ti spacco pure Una volta Eh Trovo un altro modo Per Non ho capito Cosa c'è scritto Trovo un modo Per far uscire Gli operai Dalla Caffettiera Dalla Caffettiera Gli operai Dalla Caffettiera Qua Bisogna distruggere Abbiamo capito Quando c'è quel simbolo Bisogna distruggere E quando c'è la freccia La freccia Bisogna spingere Abbiamo inserito la spina Fai uscire Quelli Ah Dobbiamo andare su A riparare Due Sono due A riparare Ok Perfetto Perfetto Andiamo su La donna salta Molto più in alto No Sto spaccando Che pirla Ma che cosa è sta roba È una cassa È una cassa È una cassa E dall'altra parte C'era l'altra Ok 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 Ho capito L'ambaradam Ok E qua ci vuole la donna Quando c'è quel simbolo Ci vuole la donna E la donna Non è lei Pirla Sono un scemo Perché a riparare voi No eh Belli seduti Tranquilli Beati Che come lavorate Oh E vai E vai Musica di HD Si è aperta la porta E gli operai sono usciti Da cafettiera Nice Come balliamo Ma come balliamo Ma come balliamo Premi Y A X È il momento giusto Per continuare a ballare Ma che cazzo Oh ma io l'ho premuto i giusti Oh Perché io l'ho premuto dentro Ma io l'ho premuto dentro Sì vabbè Ragazzi è sballato il gioco Perché io l'ho premuto dentro Non stavo guardando Ben fatto Ragazzi che figata È un gioco Con tanti giochi All'interno È un gioco Con tanti giochi Cioè è un gioco Giochi È un parco giochi Quanta roba Festa estrema Eh Fesso Ah no Fesso Oh La seconda istruzione Che ci manca E che ci serve Soprattutto Nice Yuppie Ora dobbiamo tornare giù Però come si torna E vabbè Ci penserei Due secondi Già giù E vabbè Allora dillo Trinquetrack Dai e dai E li portiamo qua Premiamo la B E sbanghete 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 Questo è un gioco a tempo Credo Ora serve quello lì Rotondo Guardate Sta scalando il tempo Che poi il tempo Sono soldi Oh my god Altri due Altri due Cosa ci serve Quello lì giallo Qua Trovato Ora Quello nero Trovato Questo Trovato Ora Il prototipo Per la gru Demolitrice Vi ricordavate Costruito Abbiamo un progetto Ma che cavolo Di figata È epico Questo gioco Epico Cioè C'ho 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 Gli scarafaggi Sulle Sulle braccia Ragazzi C'ho C'ho Le occhie Che fanno Qua 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 Le papere Sulle braccia Che devo fare Dobbiamo demolire Oh my god Oh my god Oh il super corpo Ma altro che GTA I giochi di oggi Ragazzi Questo è un gioco Questo è un giocone Questo Oh 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 Ma sono io Che cazzo È in una maschera Bagno È in una maschera Bagno Ragazzi È in una maschera Bagno Sono i classici giochi Platform Ragazzi Di una volta Che Erano veramente Divertenti Ecco là Ecco là Ecco là Ecco là Ecco là Mi sto rincoglionendo Mi sto Non c'è il gudetto Non c'è il gudetto Non c'è il gudetto Oh E mo Ma è tutto così Ma dove starò andando ragazzi Che Che ne pensate voi Dove starò andando Chi è arrivato fino a questo punto di video Scrivete in chat Secondo voi dove starò andando Senza spoilerare Se conoscete il gioco Logicamente No ma là sotto c'è lava C'è della lava là sotto Però Ehi 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 Terra dura È arrivato È arrivato Ehi Ehi E livello completato Abbiamo sbloccato Emmett Che sarà il nostro eroe Che ci accompagnerà Abbiamo sbloccato Emmett in pigiama Poteva mancare Emmett in pigiama Secondo voi Guile 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 Chi è Guile Frank il capo squadra L'abbiamo sbloccato anche Tizio delle demolizioni Eh sì È quello che abbiamo incontrato sopra Se vi ricordate Wild style Signora dei gatti La gattaia Ci poteva mancare una gattaia Cardiocorrie 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 Larry il barista Che cazzo c'entra Quando abbiamo bloccato questo E mo E mo Facciamo il conteggio Di tutti i punti Accumulato lì Voilà E mo L'avanzamento Del processo Del livello Mi aspetto Un cento per cento Novantaquattro Ma sei un pezzo di citriolo Sei Abbiamo trovato scatole Manca una scatola E qui Livello Completato Uno di settanta Ragazzi Questo era il primo video Spero vi sia piaciuto Se volete Ve ne farò altri sessantanove Perché ne mancherò sessantanove Per arrivare a settanta E magari completato questo gioco E spero di completarlo Magari faremo un'altra saga di Lego Un'altra collezione di Lego Tipo tanti altri E Se mettete tanti pollici in su Io veramente Questa serie La continuo Ok Ciao cuore Ciao a tutti